attenzione cosa dice cappello cappello champions io dopo real e city metto l'inter in zaghi può arrivare in fondo ma no cappello guarda che i milanisti poi si incassano e non ti parlano più è cappello cappello dai fabio dai non fanno in questo modo su 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 dai intervista per cappello capito cappello perdi i milani i milanisti si incassano cappello vedi cosa devi fare ritira tutto ritira devi dire il il milan di 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 fonseca può arrivare in fondo dillo 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 prendili per il culo dillo ma non dire questa cosa cappello champions io dopo real e city metto l'inter no no si arrabbiano perché loro sono sensibili loro sono piangina si arrabbiano cappello che cazzo stai facendo che cappello ci vediamo il 22 il 22 settembre cappello ci vediamo il 22 settembre sto aspettando quella giornata cappello mamma come la sto aspettando mamma mia cappello perdi tutti i macachi così li perdi tutti i macachi attenzione aspettando Grazie.